Inizia a circolare la notizia che i soldi per il reddito di cittadinanza possano essere finiti o meglio che il reddito possa essere ridotto. Parliamo di 2 miliardi di euro. Tanto mancherebbe al governo per continuare a garantirne l'erogazione e tanti sono i soldi, 2 miliardi di euro, come detto, che il governo starebbe cercando di ristanziare in modo tale da garantire che il numero di beneficiari rimanga lo stesso anche nei prossimi mesi. In caso contrario il sussidio potrebbe essere ridotto, rischia di essere ridotto, così come il numero dei beneficiari può diventare inferiore ai reali aventi diritto. L'obiettivo è quello di risalire e di salire dai 7,3 miliardi, attualmente previsti, a 9,3 miliardi. Come detto, insomma, servono altri 2 miliardi di euro per continuare a garantire il reddito di cittadinanza agli aventi diritto in questo momento. Intanto però emerge un ulteriore aspetto poco chiaro che riguarda il sussidio o meglio, chiamiamolo malfunzionamento. Di cosa stiamo parlando? Dovete sapere infatti che la maggior parte di chi incassa il sussidio è residente da Roma in giù. Questo cosa vuol dire? Che nel sud Italia ci sono più poveri rispetto al nord? Beh, la risposta è no, non è così. Due milioni di persone circa nell'area settentrionale, altrettanti nell'area meridionale. Parliamo di dati istat e per povertà si intende di individui che non sono in grado di soddisfare i bisogni primari. Ecco perché, peraltro, percepiscono il reddito di cittadinanza. Tuttavia, l'omogeneità dei poveri in Italia non si riflette nel sussidio, non si riflette nel reddito di cittadinanza. In sostanza ci sono 1,2 milioni di persone ulteriori a quei due al nord e quei due milioni di persone al sud che abbiamo segnalato poco prima. 1,2 milioni di persone, dicevamo, che avrebbero bisogno del reddito ma sono tagliate fuori. Sono tagliate fuori perché hanno un reddito troppo alto. Troppo alto per ricevere il reddito di cittadinanza ma non così alto, non sufficiente per arrivare alla fine del mese. E questo vale per tutto il settentrione. 1,2 milioni di persone dalla Val d'Aosta fino al Friuli Venezia Giulia. Di cosa stiamo parlando esattamente? Chiudiamo allora facendo un esempio. Una famiglia che vive con un reddito mensile di 1.250 euro è considerata povera. Nel nord Italia per affrontare tutte le spese, tuttavia questi anche qui siamo di fronte a dati ufficiali, non sono sufficienti 1.700 euro al mese. Il problema è che 1.700 euro mensili non danno diritto al reddito di cittadinanza perché è considerato un reddito troppo alto. Insomma, non stiamo parlando di gente che rifiuta un'offerta di lavoro. Parliamo di requisiti in base a cui si calcola la povertà che non coincidono con quelli per ottenere il sussidio. Per concludere, in questo caso, talvolta insomma, povertà, costo della vita e reddito di cittadinanza viaggiano su tre binari diversi.